Questa mattina siamo di fronte allo stabilimento di Grigolina Susegana perché purtroppo ancora una volta si è verificato un episodio di incidente sul lavoro. Sindacati compatti questa mattina fuori dai cancelli delle fornaci Grigolina a Ponte della Priula dove ieri ha perso la vita il 23enne a Ziz Diop precipitato da un silos. Il presidio di CGL Cisle Will qui hanno preso parte anche familiari e colleghi della giovane vittima straziati dalla perdita e che hanno denunciato carenze in termini di sicurezza nello stabilimento. In azienda lavorano anche il padre e due fratelli di a Ziz, un altro fratello e operaio alla vicina Electrolux dove per domani è stata indetta un'ora di sciopero. Noi vogliamo lanciare un messaggio anche alle aziende, a tutti i lavoratori perché si cambi passo e perché si affronti in maniera decisiva il tema della sicurezza sull'oghe di lavoro. Il problema, rileva il segretario regionale della CGL, riguarda spesso e volentieri giovanissimi e il pensiero va a Mattia Battistetti, morto tre mesi fa in cantiere a Montebelluna. Hanno un'incidenza percentuale che è addirittura 12 volte rispetto alle altre classi di età e questo evidentemente pone una urgenza specifica. Per noi c'è sicuramente un tema di formazione ma c'è anche un altro tema ed è il tema della precarietà. In comune a Susegana bandiere listate a lutto mentre la Procura della Repubblica non ha ancora formalmente aperto un fascicolo sulla morte di a Ziz ma lo farà a breve. Degli accertamenti si sta occupando lo Spisal che ha rimpinguato le sue schiere nell'ultimo periodo. Nella marca, stando alla tabella che ci mostra il direttore generale dell'ULS2 Francesco Benazzi, i tecnici della prevenzione sono attualmente 74 ma non basta controllare, occorre prevenire. Nel Trevigiano sono già 5 i morti sul lavoro da gennaio a oggi.